Abbiamo pensato a questo incontro per un motivo molto semplice e ci siamo accorti, come penso molti genitori e anche molte altre istituzioni scolastiche, che ormai i nostri ragazzi, dai più giovani, quindi da quelli di prima media fino a quelli di quinta superiore, navigano tutti i giorni sulla rete. E sulla rete si può navigare in un modo che è tranquillo e in un modo anche che molte volte è pericoloso. Ecco, lo scopo dell'incontro di oggi è stato proprio questo, fornire ai nostri alunni delle indicazioni su come navigare sicuri in internet. L'incontro è stato organizzato con la Polizia di Stato, la sezione della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni di Bergamo, la quale ha dato una serie di consigli, anche una serie di suggerimenti e di istruzioni pratiche utili su come utilizzare e come navigare in rete. Qui siamo con Mike, tu utilizzi spesso internet? Sì, lo utilizzo spesso ma soprattutto per una raccolta di informazioni e proprio per cercare di cogliere con le informazioni che magari sul mondo televisivo, il mondo giornalistico non riescono a trasmettere. Quindi più una raccolta di informazioni e cercare di vedere anche alcuni punti da più punti di vista. Come ti è sembrato l'incontro di stamattina? Sono uscite cose che effettivamente non si vede il rischio di questi strumenti e mi è sembrato interessante proprio perché è veramente una questione complicata e non è così superficiale. Ad esempio cosa ti ha colpito dalle tante cose dette? E il rischio anche di entrare in strutture bancarie, quindi di colpire in modo critico le famiglie, soprattutto sulle questioni monetarie che possono anche mettere in crisi alcune famiglie, soprattutto in questi tempi. Chiara è una studentessa di seconda liceo, usi spesso internet? Sì, mi capita di usarlo una volta al giorno e lo uso principalmente, sto su Facebook, quindi sento i miei amici o comunque il mio profilo, infatti sono scritta a questo social network. Oggi hai imparato qualcosa di nuovo? Sapevi già dei rischi che si corrono a volte navigando? No, oggi è stato un incontro molto interessante, infatti diciamo che hanno sottolineato alcuni aspetti che sinceramente sottovalutavo mentre navigavo in internet. Ad esempio, ha fatto l'esempio comunque di una ragazza che si sentiva con il suo fidanzato, gli aveva lasciato delle foto e quando si sono mollati, si sono lasciati, lui ha pubblicato queste foto su internet. Erano anche foto abbastanza personali e questo mi ha colpito molto, il fatto comunque che bisogna sempre stare attenti e sempre stare allerta su internet. Grazie a tutti.